Radio Stereo 5 presenta CNA Cuneo, dedicato all'artigianato e alle piccole e medie imprese della Granda. Ogni venerdì alle 18 e 10 e ogni martedì alle 11 e 10. È stata recentemente siglata presso la sede di CNA un accordo tra CNA e l'Associazione Panificatori Autonoma della provincia di Cuneo. Siamo in frequenza per parlarne con Piero Regucci, presidente provinciale dell'Associazione Autonoma Panificatori. Ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie per la chiamata. Che significato ha per voi questa collaborazione? Ma è un significato molto importante perché dopo oltre 60 anni di autonomia reale, nel senso che era una piccola associazione ma specifica di categoria, è venuto negli ultimi anni, visto le difficoltà di seguire tutte le norme, le leggi, eccetera, essere da soli, diventava complicato. Anche perché pian pianino alcuni pornai si sono chiusi, quindi stiamo diventando anche un po' più piccoli. È venuta fuori l'esigenza di affiancarsi con qualcuno che riteniamo seri, con il quale abbiamo già avuto modo di scambiarci dell'informazione in passato. E pur mantenendo le nostre autonomie reciproche, fare una collaborazione più attiva. Per farci sentire dall'autorità, per intervenire sulle norme, cercare anche di fare gli interessi della categoria tutti assieme. Ci sono in programma degli eventi? L'idea in settembre è di provare a lanciare qualche cosa assieme, però per adesso purtroppo il coronavirus ha fermato tutti, perché questo accordo qua avremmo dovuto farlo in primavera. Ed erano in programma durante l'estate alcune manifestazioni che purtroppo sono saltate. Non ultimo alcune città, anche la Fiera del Marone, quindi dove noi siamo presenti quasi sempre. Quindi purtroppo dobbiamo riaggiornarci un attimino a settembre e fare un punto della situazione sulle manifestazioni e sulle occasioni che avremo davanti. Ma concretamente a noi ci interessa anche molto elaborare e studiare assieme le norme, le leggi che arrivano, i decreti, sia regionali che nazionali, per essere pronti a farli conoscere alla categoria nel miglior modo possibile. Io la ringrazio, dottor Rigucci, per essere stato in frequenza con noi e un buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie mille.